Si parla di donne, si parla dell'approccio della donna al mondo scientifico, un mondo che è sempre stato prettamente maschile, che un po' lo è ancora, ma con questo spettacolo che ACRI organizza qui all'interno di un posto che parla proprio di scienza, è uno spettacolo proprio rivolto alla storia di queste donne che hanno combattuto per i loro progetti, i loro ideali, che hanno ottenuto ottimi risultati, che poi nel corso della storia sono stati da tutti riconosciuti. Sei donne che hanno cambiato il mondo, uno spettacolo per omaggiare il contributo femminile al progresso della società Almumec, venerdì 24 novembre, alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nel loro periodo hanno avuto delle grandi difficoltà perché lavorare nella scienza, nella ricerca o nella scoperta era prettamente maschile, insomma. Ci sono state delle persone che hanno avuto il premio Nobel e non erano loro. L'iniziativa ad ingresso libero e gratuito è inserita all'interno del progetto Donne Scienza, promosso dalle ACRI di Arezzo con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo 4 novembre. Noi lavoriamo in un istituto comprensivo con un'altissima presenza di bambini e bambine straniere, bambine qualche volta per le quali nella loro cultura di provenienza già il venire a scuola è una grossa conquista. E proprio pensando a loro abbiamo sposato in pieno questo progetto che parla di donne, parla di scienza e parla di donne che hanno avuto un grande successo e grandi risultati nel mondo scientifico che era all'epoca in cui sono vissute prettamente maschile. Questo ha un grande messaggio al di là della conoscenza e delle attività che faremo, che sono tante, teatro, divulgazione scientifica, esperienze e dimostrazioni scientifiche di vario genere, cinema, ci consente anche di passare un messaggio educativo importante che è quello che l'intelligenza delle ragazze è un'intelligenza di cui abbiamo bisogno.